Salve a tutti ragazzi ragazzi, siamo qui nel canale di Alain Semblem e oggi mi farà un trucco di magia. No, lei si occupa di trucchi della magia, perché noi che abbiamo fatto... Si come io trucco, lo chiamo trucco di magia. Ti faccio trucco di magia, io se... Vi invitiamo a mettere like a questo video se vi è piaciuto e non vi chiedo dopo i nostri amici, ma specialmente... Iscrivetevi al suo canale! Io sono Sofia e la sua... Mi sono dimenticata il colore! Allora, non è la fischia! Questa volta Sofia... Ragazzi, sentiamo Sofia P, nel canale di Instagram già scritto nell'infobox, quindi andatelo a vedere. Niente ragazzi, vi lasciamo qui! Ciao! 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 Allora, abbiamo qui un mazzo di carte, con le carte differenti, come vi faccio vedere. Arriviamo anche le specie. Tornando che ce ne andiamo a mescolare. Ora ti farò un gioco impossibile, perché veramente è una cosa strabiliante se la prendi bene. Quando vuoi prendila, prendila, guardate in camera con me. Io sono un mago, quindi sono molto deciso, guarda, dimmi stop quando vuoi. Sto. Qui? Guarda, però a questo punto. Potrebbe essere una di queste tre carte da due, giusto? Vediamo se c'è via. Allora, potrebbe essere l'8 di cuori, potrebbe essere il K di cuori, potrebbe essere il 3 di cuori. Ok? Ora ti diamo qualcosa come ci serve proprio. Diamo quindi tre carte. Però io sono un mago, ho detto, posso fare quello che interroga. Che carte è la loro? L'8 di cuori. Guarda, qua stanno tre carte. Lisses per tutti. Guarda il pasto che sa qui lo trovano so che non potete. Guarda l'8 di cuori. Ma lo sono le carche. Io cá sta in cihada guarda che mi hanno effettato sempre qui. Bene, come le parole. da curire tutti e ai li stanno i soldi ecco Grazie a tutti.